Felix aveva tutto nel suo paese natio, la Cecoslovacchia. Ma il piccolo Weinberg, i suoi fratelli e sua madre, saranno catturati dai nazisti. E inizierà il loro drammatico calvario nei campi di concentramento. Una testimonianza inedita che sta facendo il giro del mondo. La drammatica storia vera di Felix Weinberg. Deportato a soli 12 anni e sopravvissuto a 5 campi di concentramento. Bambino numero 30529 Newton Compton Editori